Facciamoci un applauso per partire. Grazie a tutti. I protagonisti del ritorno all'estero degli scambi e dei viaggi che offriamo come Ufficio Tiravondo che è una parte dell'Ufficio Giovani. La parte migliore a parer mio è la compagnia, semplicissimi sconosciuti che ti accompagneranno in questa breve settimana. La parte migliore a parer mio è la compagnia, semplicissimi scambi e dei viaggi che offriamo come Ufficio Giovani. Ringrazio voi genitori per la fiducia che ci avete dimostrato e il ringraziamento più grande prova a voi ragazzi che siete la nostra sveglia e il nostro entusiasmo, la vostra partecipazione ci danno con la giusta carica e con le energie di cui noi abbiamo bisogno per cercare sempre di migliorare. Quindi grazie ancora e ci vediamo al prossimo anno.